Una mattinata iniziata così, con l'incontro tra l'ex sindaco di Nocera Inferiore Aldo Di Vito e gli ex lavoratori della Deinfo Area, ex MCM di Fosso Imperatore, dopo 12 anni, loro, 14, ci sono ancora. Altri sono morti, aspettando in vano una chance lavorativa che potesse traghettarli fino alla pensione. Al primo cittadino di Nocera Inferiore, quello attuale, Maglio Torquato, chiedono di agire facendo pressione sul liquidatore della società Salerno Sviluppo perché non ostacoli, dicono l'unico imprenditore che ad oggi ha messo sul tavolo un milione di euro ed è disponibile ad assorbire i 14 ex Deinfo. Il 5 luglio, intanto, l'asta per lo stabile dell'azienda di Fosso Imperatore, oramai dismesso dai 5 milioni di euro iniziali, si passa a poco più di un milione di euro. Torquato si è impegnato, per quanto di sua competenza indesserà le vessi di mediatore tra i lavoratori e di loro diritti rivendicati ed il curatore fallimentare. Eravamo 16 unità lavorative, siamo scesi a 14 unità lavorative perché due sono venuti meno, due nostri colleghi di lavoro, meno di 60 anni avevano, quindi sono morti agognando un posto di lavoro per poter anche poi accedere a un'eventuale pensione. Invece, cosa è che è successo in questo frattempo? Dopo 5 anni tra cassa integrazione e mobilità non finalizzata la pensione, la Salerno Sviluppo, che avrebbe dovuto tutelare gli interessi di questi lavoratori, è venuta meno su tutti i fronti. Quando siamo usciti fuori dal cappello protettivo della Salerno Sviluppo, noi ci siamo dovuti attrezzare con un nostro legale di fiducia. E lo abbiamo fatto. E attraverso il nostro legale di fiducia ci sono avuti vari passaggi, vari contatti con tanti imprenditori che poi sono venuti tutti quanti meno. Uno soltanto, che attraverso il nostro collega di lavoro aveva prospettato l'ipotesi di fare un tipo di intervento di questo tipo, contattando l'avvocato Mandarino, tutto doveva procedere in un certo modo. Tant'è che questo imprenditore mette sul tavolo un milione di euro e in più si piglia 16 unità lavorative, avanti in età, che non so cosa ne possa fare, ma che comunque, andando nel sistema lavorativo, noi risolviamo un problema, un problema giuridico, un problema etico e tecnico se vogliamo. Questa persona è osteggiata comunque da questo tatticismo sfrenato di questo ruggiero, di questo dottor ruggiero che è il liquidatore della Salerno Sviluppo, che non si sa dove voglia parare. Noi ci siamo già incontrati due volte, ormai oltre un mese fa, con il rappresentante, cioè l'attuale liquidatore e con i rappresentanti dei lavoratori. Credevo, credo, che una ipotesi di soluzione fosse stata messa in campo perché al successivo appuntamento non sono venute le parti interessate e mi dicevano anche di un incontro nel frattempo intervenuto tra di loro, anche con il legale di una delle società in questione o del legale anche delle rappresentanze lavorative. Ad oggi, evidentemente, la situazione non ha avuto sbocco né sblocco, per cui richiameremo il liquidatore. Sicuramente siamo pronti, da questo punto di vista, a rifarci i promotori dell'incontro, a fare le dovute sollecitazioni necessarie. D'altronde il rappresentante della liquidazione è un nocerino, quindi conosce la situazione del nostro territorio e anche delle esigenze dei lavoratori, sperando che dia uno sbocco in tempi ragionevoli.